Buongiorno amici, sono Claudio di Vacanze Col Cuore e oggi parlo da Orlando Inchianti, Glamping Resort. Sono qui perché voglio parlare con te di una delle notizie più importanti per la prossima settimana. Siamo mettere due nuove slide e una bella bella Glamourland, Glamourland, dove metteremo una sauna, due hot soup e una nuova cocktail bar. Sono qui perché questa è la locazione, metteremo la sauna in quella parte. Qui c'è la sala di vivere e qui c'è la nuova cocktail bar. Per ora non diamo, ci vediamo la prossima settimana nel nostro glamping. Ciao ciao! Grazie a tutti!